Musica 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 Al secondo minuto di gioco passa in vantaggio Vicenza a calcio 5 Musica 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 Allora, fai qui! Mamma che bella! Mamma, vai ragà! Vai! È tuo, dai! Occhio! E si! Ehi! Ah, Mario! Capparam! Rapport! Bravo, chi! Hau, Mario! Ciao! Magma, magma, magma! Magma, magma, magma! Non c'è quello che è stato fatto, non c'è quello che è stato fatto, non c'è quello che è stato fatto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 20. Grazie. 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 Grazie.